se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati raga e benvenuto per chi è nuovo del canale ragazzi allora oggi vi voglio portare una chicca ragazzi secondo me il 50% di voi non sapeva questa funzione che vi sto per portare non è un glitch ma è semplicemente una funzione del gioco che ci permette di rimanere off rider ragazzi perennemente cioè non avremo il timing tipo il ceo ma potremmo stare off rider per sempre quindi ragazzi ovviamente cambiando lobby si sbagga tutto quindi ragazzi vi ricordate questo colpo sbloccando questo colpo facendo tutte le missioni di questo dlc raga sbloccheremo questo contatto i mani ok una volta che sblocchiamo i mani ragazzi la cosa divertente è che lei ci da una funzione che si chiama fuori portata questa funzione ci permette di avere un raggio diciamo all'interno della mappa e stare off rider ora vi faccio vedere quando noi andremo a chiamare i mani raga e ci risponderà avremo le due funzioni una di esse è fuori portata questa funzione è illegale a parer mio perché dal momento che noi l'attiviamo saremo perennemente off rider saremo in fantasma sulla mappa per quanto tempo vogliamo finché noi stiamo all'interno del cerchio che vedete nella minimappa che adesso vi faccio vedere direttamente dal menu di pausa vi spiego una cosa che secondo me la gente ci scappa di testa ragazzi che è questa allora se noi facciamo dentro e fuori raga dal cerchio quindi vi mettete in una zona tipo sul bordo e fate dentro e fuori saremo visibili e non visibili e la gente ci scappa di testa raga e niente raga io spero che questo video vi sia stato d'aiuto lasciate un like lasciate un commento sostenete Xavix iscrivetevi in tutti i gruppi di telegram e sbada bam raga al prossimo video buona visione